Ti chiami? Agusto. Quanti anni hai? Cinque. Ti è piaciuto lo spettacolo? Sì. Cos'è successo durante questo spettacolo? Cosa hai capito? Quello di quando si gonfia la morgonfiera. E cosa hanno fatto i due signori? Ci hanno fatto viaggiare? Sì. E ti è piaciuto? Qual è il momento che ti è piaciuto di più? Quello quando la morgonfiera c'era gonfiata. E la muovevano? Sì. Grazie.